Geri Scotti, autografo Mentre piangevo mia madre morta, curiosa coincidenza e c'è posta per te. Irene chiama c'è posta per te per fare una sorpresa al fratello minore. Ho capito che è lui il maggiore. Non io, perché non sono stata in grado di proteggerlo. Maria De Filippi racconta che i genitori di Irene e Daniele sono morti a distanza di tre mesi l'uno dall'altra. Dello stesso tipo di malattia, ha soli 55 e 57 anni. E' stato Daniele a farsi carico dei suoi genitori. Irene a lungo non è riuscita a realizzare quanto grave fosse la condizione dei suoi genitori. Per questo, adesso che entrambi non ci sono più, la giovane intende ringraziare il fratello per averla supportata. Ad aiutarla c'è in studio Geri Scotti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.